La seconda serata del Festival della Romagna 2020 è dedicata alla musica e al premio musicale dato quest'anno a Luca Bergamini, figlio di Franco Bergamini, quel Franco capostipite della musica romagnola che lavorò accanto a Secondo Casa Dei. Allora siamo qua pronti, Piazza Garibaldi, questa serata nell'ambito del Festival della Romagna dedicata a mio padre Franco Bergamini, siamo emozionati perché comunque sapete già tutti che veniamo da un periodo di inattività e questa è una delle prime serate, sono felice che Cervia ha pensato a mio padre, grazie a Daniele e tutto lo staff di Cervia che ha voluto a tutti i costi questa serata. Io sono qua con la mia orchestra dove ripercorreremo tutta la storia dell'orchestra Bergamini da quando mio padre è iniziato nel 1968 con l'orchestra di Secondo Casa Dei per poi arrivare ai giorni nostri dove io già da 15 anni faccio la mia musica, scrivo le mie canzoni e sarà un bel percorso musicale. Ripeto, grazie a Daniele Baronio, all'amministrazione comunale di Cervia, a tutti gli sponsor che hanno partecipato per questo Festival della Romagna, che dire, da Luca Bergamini, tutti i suoi ragazzi, grazie di cuore e speriamo che sia veramente una grande serata. Grazie di cuore.